A 27 anni Eliana e per seguire il suo sogno, diventare una violoncellista, ha lasciato che al tennisetta Gianni fa per arrivare ad Israele e traguardare obiettivi professionali e di studio. Sarà tra i musicisti che accompagneranno delle pop star molto amate del pubblico italiano a livello nazionale in un appuntamento televisivo a ridosso del Natale come primo violoncello dell'orchestra israeliana diretta del maestro Gian Piero Grani. Il mio amore per la musica nasce all'età di 5 anni, quando mi regalano una pianola a giocattolo e io mi innamoro pazzamente di quella pianolina, non riesco più a farne a meno. Mia mamma comincia ad avviarmi verso delle lezioni di pianoforte con la maestra Paola, che saluto tanto, e dall'in poi comincerò ad amare il pianoforte più di qualsiasi altra cosa. Un sogno che parte da quando aveva 5 anni e inizia a studiare musica davanti ai tasti bianchi e neri del pianoforte, poi a 11 anni il violoncello con la guida del maestro Vamid Pavlov, primo violoncello del Teatro Bellini di Catania. Dopo essersi laureata al programma internazionale di eccellenza dell'Accademia Watchman Meta dell'Università di Tel Aviv nella classe del virtuoso violoncellista Hillel Zori e del primo violoncello dell'orchestra filarmonica di Israele Emanuele Silvestri, è stata titolare della borsa di studio per giovani virtuosi dell'Accademia dal 2018 al 2021. Anna Sofia Mutter, che fin allora ascoltavo sui cd, su youtube e sugli streaming online di musica, quindi incontrarla dal vivo e suonarci insieme, quella senz'altro è stata un'emozione straordinaria, è un sogno che è diventato realtà. Il grande amore per la musica da camera, poi le masterclass, premi, riconoscimenti, concorsi musicali. Oggi si esibisce in duo con i pianisti israeliani Rafael Skorka, Inan Stuntman e Jokan Nerel. La sua carriera concertistica internazionale inizia molto presto e le ha dato la possibilità di esibirsi sotto la direzione dei direttori tra i più influenti della nostra epoca, come la Hav Shani o Ivan Fischer o ancora Gianandreano Seda e molti altri. Oggi Eliana sta ultimando il suo perfezionamento con il master degree all'Accademia di Musica di Gerusalemme. Una delle tappe più importanti è senz'altro quella che mi consente di conoscere il mio maestro Vadim Pavlov e di studiare con lui, di formarmi con lui, di avere la possibilità di studiare il violoncello, amare il violoncello e portarlo ad un livello tale da permettermi di continuare nell'Accademia Internazionale di Zubinmet a Tel Aviv.